Rino Concas alla Fiera in uno stand particolare, in una piattaforma particolare a Kentannos con un obiettivo molto particolare anche questo, come possiamo vedere anche dalle immagini qua dietro racconti una storia diversa all'interno di questo padiglione dedicato alla vecchiaia qual è questa storia che ci vuoi raccontare? Allora noi parliamo della fototerapia per conto della Zepeter, stiamo dimostrando il Biotron che è un prodotto medicale e praticamente riproduciamo né più né meno che l'energia solare all'interno di uno strumento elettronico, questo serve perché il nostro organismo è fatto di liquido e di energia L'energia purtroppo non la prendiamo più come una volta dal sole perché vuoi perché viviamo in quattro mure oppure perché si lavora all'interno di ambienti chiusi, ecco che non abbiamo la possibilità di prendere la nostra dose quotidiana di sole che serve per riequilibrare il nostro organismo perché l'energia la prendiamo dal sole La semplicità del nostro strumento è proprio quella, stiamo cercando di farci conoscere in Italia perché nel resto del mondo è già vent'anni che sta girando negli altri stati quindi oramai è già diventata uno strumento elettronico domestico quindi ce l'hanno quasi tutti in casa negli altri stati e quello che la Zepter vuole è che il Biotron venga anche in Italia in questa maniera qua La comunità scientifica come risponde? La comunità scientifica ci sono diverse testi certificazioni più che altro sono certificazioni a livello internazionale ci siamo presenti anche in America e nell'Europa per esempio è quasi tutta completa la comunità scientifica sta rispondendo abbastanza bene dobbiamo ancora intervenire a livello di italiani perché anche l'Italia c'è già qualche ospedale in campagna e nella zona di Udine c'è un altro ospedale che lo stanno già adoperando quindi stanno già ottenendo dei risultati non indifferenti perché va bene dal bambino a Kentannos come siamo giusto all'interno del sito perché va bene per tutti nessuno è escluso non ci sono controindicazioni e va bene per qualsiasi tipo di patologia Grazie mille Prego, anche grazie a voi